...ha potuto tirare come avrebbe voluto. Jordi Alba. Buono l'appoggio. Iniesta. Iniesta. Piquet. Buon movimento di squadra. Busquets. Jordi Alba. Iniesta. Prova ad attaccare Barcellona. Cerca la rete. Luis Suarez. È arrivato il gol. Il Barca ha messo una grande ipoteca sulla vittoria con questo gol l'immisimo di una gara perfetta. E adesso hanno la partita in pugno. Un contropiede da manuale con freddezza da Luis Suarez. Con questo replay possiamo apprezzare davvero il gesto tecnico da un'altra inquadratura.